Dalla fine la spunta del Catania avete anche rischiato di passare in vantaggio, c'è stata quella traversa, forse sporcata per quello che si è visto dalla tribuna da Pisseri, però la prova globale ha visto un'andria molto positiva e quindi forse c'è anche un po' d'amarezza. Amarezza è tanta, perdere ulteriormente un'altra partita a due minuti dalla fine lascia veramente qualcosa di amare in bocca. Noi l'abbiamo preparato nel migliore dei modi e credo che si è visto anche durante la partita. Siamo stati bravi a contenere il Catania e i ragazzi sono stati eccezionali nel ripartire. Dimostrazione del fatto che abbiamo creato quelle 4-5 pale gol che comunque non sono girate nella maniera giusta e ora commentiamo una sconfitta che per noi sa di un'ulteriore beffa. Al di là del risultato c'è qualcosa che l'andria non ha avuto rispetto al Catania e viceversa? Assolutamente, io credo che l'andria sia giocata a vista aperto con il Catania. Ha sofferto quando c'era da soffrire, è ripartita quando c'era da ripartire. L'unica differenza è che la sorte non ci ha premiato mentre ha premiato il Catania con questo rigore concesso dall'arbitro. E quindi ci tocca accettare il verdetto e andare avanti. Andare avanti sempre con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di continuare a fare bene, di sfoglierare queste prestazioni perché prima o poi il risultato ci sorriderà, non può andare sempre mica in questa maniera. È la terza partita che noi pareggiamo, perdiamo, anzi questa è la prima sconfitta che comunque perdiamo negli ultimi minuti. Questa volta non mi va di dare la colpa a nessuno perché i miei ragazzi sono mossi in una maniera giusta. Le chiedo come ha visto il Catania e se per una big della Serie C vincere in questo modo all'ultimo sul calcio di rigore può essere anche determinante a fine del campionato? Può essere un segnale, il Catania è stato costruito per poter lottare per l'obiettivo finale. È venuta, sta venendo fuori con dei risultati che magari gli danno una grossa mala anche alla fine come è successo oggi e credo che comunque alla fine i valori del Catania verranno fuori e lotterà fino all'ultimo. Grazie. Grazie.